La Fiorentina primavera sfida il Cagliari, subito i Viola provano ad accelerare, ci provano con Toci, non arriva in tempo di Stefano per ribadire da due passi, la Viola comunque spinge anche all'inizio del secondo tempo, trova il vantaggio con questa bella azione sulla catena di destra, Amatucci tocca dentro per Toci e il gol con il tap-in vincente, l'abbraccio tra tutta la squadra Viola che trova così il gol che deciderà di fatto l'incontro. La Fiorentina padrona del campo, l'1-0 in realtà è forse più stretto di quello che racconta la partita, rivediamo però la giocata con Amatucci che mette dentro di prima intenzione e Toci che con buon tempismo va dentro nel finale in mischia, Martinelli esce con sicurezza, fa suo il pallone e non cambia il risultato, 1-0, un'altra vittoria per gli uomini di Aquilani.